Ragazzi e ragazzi sono Ken Gabri e oggi siamo su Clash Royale Facciamo dei video anche con Pasta02 che è un amico e saluto Lasciate like, i nostri primi due video sono andati benissimo, continuate così E adesso faremo un paio di partite Ho tutte queste carte qua, me ne mancano ancora un po' però Sono già, non puoi dire, un pochino forte ma non tanto Allora questo qua è il mio deck che ho usato in campo di prova Però io ho dei deck molto ma molto più forti, tipo questo qua è il più forte E andremo a fare una partita 2 vs 2 Così almeno vediamo chi vince Non mi ricordo se danno anche dei bauli, forse sì Comunque arriviamo a 10 like E Pasta02 porterà un altro video Fighissimo Va bene, spero Eccolo lì, arena selvaggio Come avete visto sono in arena 8 Quindi può andar bene Ah, ecco, se voi è già partito Calmi Aspettate, aiutate Aiuto State un po' calmini, aiutatemi No, ok Facciamo che esploda Niente Ci sono strafogati questi Perfetto Andate sgherri Siamo con Riot Che non so chi diavolo sia Eccolo lì, scarica il punto giusto Perfetto Vai che la prima torre è presa Prima torre è andata Sono Mi son beccato uno forte Perché in queste partite puoi anche beccarti uno che È strascarso Però Devo dire che Non si sono arresi Ah no Mi sembrava strano Quando me la guffo io È È dura Allora Valkyrie lì Lui mette il moschettiere Sta andando benissimo Tre torri Tre torri Mi diano anche un baule O no Baule d'argento Sì Non è che sia il massimo Comunque Riesci a caricare? Sì Bravo Comunque Questi qua siamo nei Nutella Go Il primo quante coppia Boschetto 2 Gli potrei copiare il mazzo Dai va Copiamolo e usiamolo Partire velocissima Vi consiglio di scaricarvelo Oppure Tanto so già che For la maggior parte Ce l'hanno Fatemi sapere in che arena siete E magari ci potremmo poi contattare Per fare una partita Allora io come vi ho già detto Forse per chi è nuovo non lo sa Io non ho un canale YouTube Quindi non andatemi a cercare Aspetta Attenzione Scusate per l'interruzione Ecco Siamo partiti malissimo Alla tornata No è vero Alla tornata La scarta Più inutile Vai che li stoppo Che perdono Sì Poi io conosco anche un mio amico Che ha 15 anni Che è anche la strega notturna Questa mattina l'ho provata E non è che sia Proprio così tanto forte Io volevo aprire dei bavuri Poi leggendari Per trovarla Solo che Non penso di aprirli Per trovarla Cioè non la vorrei trovare Perché sì Quando è sotto torre Fa molto danno Mi pare che ne faccia Almeno 300 Però per il resto No Attenzione Eeeh Va bene C'è un laggato Tantissimo Non ho preso la torre Non ho preso la torre No Non ci credo Come avete visto Anche i pipistrelli Al nove Sono un'altra carta inutile Che non userò Che non so Fanno degli aggiornamenti Però poi mettono Delle carte Povera Poi non so Come state voi Scrivetemelo Qui nei commenti Comunque Poi faremo Credo faremo Lo speciale Dei 22 iscritti Che è tantissimo Siete stati Grandi Ok Ok Speriamo che il video Venga bene Però faremo ancora Una partita Spero solo che il video Non duri tantissimo Però non credo Ok Perfetto Perfetto Aspetta Riesce a colpirlo Un bug assurdo Di Clash Royale E magari Non la butterò Non la butterò Lì La scelta La cosa Ok Mancano Ok Andremo Ai tempi Supplementari Eccolo lì Vai Non so se metterla Furia Non la metto La casetta Che ho Nel deck Che ho copiato È molto forte Però io non è che L'ho tanto Quindi Ce l'ho ancora Al 5 Ok No Dun Vai Andate Andate I miei prodi Andate Andate Vai Ho messo la furia Furia messa al punto giusto Vittoria E lì Dai Ce lo mettiamo un baule Perché poi andremo anche ad aprire I due bauli Anzi Il tre Scusate Sì No Non ce la facciamo Scusate Ad aprire l'altro Però non possiamo neanche migliorarci le carte Due Dai Mi porto Lo stregone A livello 6 Poi come vedete Io No Non voglio andare nel top È un po' il top Posso copiargli il mazzo Mamma mia Che roba Comunque Facciamo la nostra ultima partita Così potremmo forse chiudiamo benissimo la serie Arena 3 Questo qua è un mazzo forte Alla razzo che abbiamo Israele contro Abbiamo Israele Che la tribù di Israele sia con noi E con l'altro Paribas Paribas 3 2 Eccolo lì no Al deck della casetta Sì Deck della casetta è quello lì più infame del mondo Vai E invece Non ce ne frega niente Puntiamo Torre Presa Torre Presa Grandissimi Grazie anche a Osuel Come ti chiami Sei forte Cosa? C'è bisogno di piegare un minuto Neanche Mamma mia che partita Lo baule argento Dai Ne facciamo ultimissima Così poi magari riusciamo anche Facendo una torre ad aprire il baule Quello lì Non è della corona Ma il baule D'ora Ok E' caricato Arena 5 Se Ha un deck decente Aiuto Non lo so perché ho buttato la tornado lì Non me lo chiedete Non me lo chiedete nei commenti Per favore ve ne prego E' niente Buttare la casetta lì Non è la casetta Sì è vero Io gli ho buttato la casetta Quindi lui prende E' dura questa raga E puntiamo per Almeno una torre Una torre ce la faccia Alla strega notturna Vedete la strega notturna Quando è così Non è che serva tanto Però adesso Speriamo che non abbiamo la casetta Vai No Tronco tronco vai Bravo Bravo Ti stimo Ti stimo tantissimo Sì Una torre presa Attenzione Potremmo fare la mega Tre torri Tre torri Mamma mia Cosa stiamo facendo Guarda Eh no Io ci ho creduto però Dai che Ci stiamo riprendendo Non ho neanche fatto la torre Sì Allora adesso aspetto Buttiamo il principe nero lì Così adesso posso prepararmi una mega combo Beh perdiamo una torre Chi se ne importa Qua Furio E vabbè Ho fatto una torre Ma io invece Ops Vai 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 Cosa fa Quello Attenzione No niente No niente Già facciamo Vai che li doppiamo Dieci Nove Otto Non ci credo Stiamo resistendo Vai Caricati Ma no No non ho visto Potrebbe costarci una vittoria Però allora adesso No Però una Una coloncina L'abbiamo fatta Non perdiamo Vero Trofei Eh Ce l'abbia sperato Però Vai Facciamo il mega spacchettamento Mega Più o meno Shoppando Ma chi se ne importa Eccolo qua Baule della corona Quattro gemme Attenzione Perché lucica Oddio Cosa Oddio raga Mamma mia Video epico Video epico Maleria Mamma mia Mastino lavico Non ci posso credere Non ci possiamo credere Vai No E bene Ops No No No